E' musica Cosa è successo? No, però io Allora la musica Comunque tu ricordati la tua altezza della faccia Possibilmente Sei al limite, cioè non deve essere mai ogni tanto Dobbiamo salire noi Meno aria su Ok, ok Quindi prova un attimo a vedere come devi posizionare per avere meno aria Muovi un po' Io sto già registrando eh Ok Così va bene Musica 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 questa ora l'ho dimenticato completamente facciamo tutto per provare ok quelle calde e saporite come on drink a Christmas tree with some decorations for a new family I really do believe in you let's see if you believe in me